Volevo provare ad affrontare un argomento che forse è un po' troppo complesso per essere affrontato qui, ma è capitato un attimo di discuterne ultimamente o di trovare qualche commento che mi portava a fare qualche riflessione su questo, e cioè un po' sull'arte e sull'artista, perché mi accorgo che ci sono molti pregiudizi e anche molti luoghi comuni in merito e volevo provare un attimo ad affrontarli, magari con l'aiuto anche di qualche testo, perché ovviamente l'argomento è molto difficile. Premetto col dire che anch'io in un certo periodo della mia vita avevo tentato, insomma mi sarebbe piaciuto, anche se poi non sono mai passato a una realizzazione pratica, ma quando ascoltavo un musicista o quando provavo a leggerne in parte la vita, almeno dei più famosi, avevo un'attenzione soprattutto, ma non tanto neanche proprio alla sua vita in genere, ma alla sua morte, cioè alla patologia che lo aveva condizionato e che lo aveva portato a morire, spesso come succede poi per i grandi musicisti, insomma, quando questi musicisti sono morti giovani, oppure di morti un po' contrastate, che poi non sono state neanche capite, insomma, avrei voluto capire meglio di cosa effettivamente ha sofferto Mozart, di cosa è morto il giovane, Beethoven, queste cose qua, insomma, come la cerrosi di Beethoven, insomma, ha influito nella sua vita. Ma poi ho lasciato perdere, perché mi sono accorto che questa cosa qua poi non mi avrebbe dato niente di più. C'è chi continua invece a cercare di guardare all'artista e quindi alla sua produzione come la conseguenza della sua vita, e qua non solo più per i musicisti, ma per gli scrittori, per tutta una serie di attori, insomma, per tutta una serie di personaggi che hanno fatto arte nella propria vita e ricostruendo la propria vita vogliono cercare di interpretare l'arte che hanno espresso, le loro opere. Tra parentesi, insomma, nel contemporaneo il mondo dell'arte, quello dell'artista in generale, si è molto ingrandito ad abbracciare una grande quantità di figure, cantanti, presentatori, registi, attori, insomma, che una volta non erano contemplate in quelle che erano le figure classiche dell'artista, insomma, soprattutto delle arti visive, insomma, il pittore, lo scultore, come eravamo abituati ad intenderlo tradizionalmente. Quindi anche la figura dell'artista si è molto più... e anche la figura dell'opera d'arte come tale è diventata l'immagine, insomma, cos'è l'opera d'arte. Di questo però ne parliamo in un secondo tempo. Quindi, diciamo così, ho l'impressione che studiare l'opera e quindi cercare di capire o di arrivare all'opera attraverso la vita dell'artista sia un'impresa che non porta molto lontano, può dare la soddisfazione di conoscere qualcosa di più, ma non di interpretare l'opera, è soprattutto di comprendere il significato che l'opera ha in quel determinato momento, cioè perché quell'opera è diventata importante, è diventata un caposaldo della storia dell'arte in questo momento. Quindi il rapporto di quell'opera con il suo tempo e la capacità di quell'opera di essere fondante rispetto al gusto e alla consapevolezza, insomma, di essere una presenza, di cambiare l'espressione artistica, il modo di sentire, di vedere la realtà di quel determinato momento storico. Quindi l'arte va inquadrata in un momento storico di cui anche la vita dell'artista può far parte, ma è la sua opera che si inserisce al di là di come sia stata giudicata o di come sia stata prodotta, di quale sia stato il processo interiore, insomma, che abbia maturato all'interno dell'artista quella determinata opera che poi in un dato momento storico è stata raccolta ed è diventata quell'opera magari chiave per capire tutta l'evoluzione successiva. Può soddisfare un po' il nostro narcisismo, insomma, di fruitori, quello di dire ma quante cose sappiamo, no? E quindi quel determinato quadro, eccetera, non è stato fatto questo perché in quel momento il pittore soffriva e allora ha fatto quel velo di quel colore invece che dell'altro, insomma, così. ma non ci permette di capire poi l'importanza, la verità di quell'opera in quel determinato momento, se anche fosse possibile, perché anche qua vediamo che il discorso è molto complesso. Per quanto riguarda la musica poi, è anche importante, ma non solo per quello che riguarda la musica, ma anche capire come l'evoluzione del gusto e quindi del fruttore dell'opera d'arte cambia con il tempo, no? Perché un altro commento che è stato fatto è quello che un determinato brano musicale, una volta che si è stati abituati ad ascoltarlo in quel determinato modo, insomma, suonato in quel determinato modo, nel momento in cui cambia la modalità di esecuzione, allora, diciamo, è come violentarlo, insomma, no? È stato addirittura usato un termine molto forte, questo dello stupro, insomma, no? E quindi difendere anche un altro tipo di esecuzione, un altro tipo di interpretazione, un'altra modalità totalmente diversa, interpretativa, con altri strumenti moderni, insomma, è stata definita quasi uno stupro. In realtà, chi scriveva musica, soprattutto in un determinato periodo, spesso non scriveva neanche per un determinato strumento. Pensiamo a Bach. La scrittura di Bach spesso era una scrittura pura, ma si scriveva musica, pensiamo all'arte della fuga, pensiamo all'arte della fuga, a come sia stata interpretata, diciamo, dagli interpreti classici riconosciuti con centomila strumentazioni diverse, in centomila modi diversi, per grande orchestra, per piccolo gruppo, per quartetto d'archi, quartetto di fiati, insomma, nelle modalità più varie, jazz, senza che questo abbia suscitato scalpore, perché in realtà era la musica che l'interpretazione era una cosa che era lasciata più alla soggettività. pensiamo poi al jazz, come abbia poi preso spunto da un'idea musicale, da un brano, per poi questo essere rielaborato e completamente improvvisato, a volte travisato, a volte si riconosce appena, ma come tutto sommato poi abbia cominciato a far parte del gusto e a diventare un genere, insomma, no? Quindi il fatto dell'estrema fedelità a una musica così come è stata scritta, specialmente a una musica antica, è una cosa difficile anche da pensare. È soltanto legata al fatto che noi siamo stati abituati in un determinato periodo storico ad ascoltare la musica in quel determinato modo, che spesso non era neanche il modo corretto, perché tutto il modo di fare o di reinterpretare la musica antica con strumenti moderni, che c'è stato prima degli anni 60, del secolo scorso, insomma, è il momento del recupero un po' della filologia musicale, insomma, quindi del ritorno agli strumenti antichi a quella prassi esecutiva, che poi è una prassi anche molto diversa da epoca a epoca, da momento a momento. Beh, fin prima c'era un modo di interpretare che faceva parte di un gusto particolare, che non aveva niente a che vedere con il gusto che era in atto nell'epoca in cui è stata scritta quella musica. Il modo di cantare, di un cantante impostato in maniera lirica, nell'Ottocento, insomma, di un cantante del bel canto, rispetto al modo di cantare di un cantante, di un castrato, insomma, o di un cantante del del 6-700, insomma, era assolutamente diverso il modo di fare il vibrato, il modo di portare la voce, insomma, era tutto un altro modo di cantare. Però questo faceva parte del nostro gusto, allora per noi questa era la cosa migliore possibile ed era la cosa unica, eravamo abituati a questo, no? C'è molta soggettività. Quando noi applichiamo un certo criterio di di ascolto, di interpretazione, oppure anche di sguardo rispetto all'opera, noi applichiamo un nostro modello, un nostro gusto e all'interno del quale vogliamo far rientrare l'opera. Ma l'opera di per sé non si adatta a entrare sempre nel nostro gusto. Dobbiamo accettarla come qualcosa di altro che ci trascende e e qui dobbiamo capire, insomma, dobbiamo capire un po' un po' di cose e anche la difficoltà e quasi l'impossibilità di definire poi con con esattezza cosa sia arte. La quale arte intanto come prima cosa va liberata secondo me e questo è un punto fondamentale da qualsiasi giudizio etico morale rispetto anche alla vita dell'artista. Quando ho fatto radio per un breve periodo e avevo fatto una trasmissione su Pasolini insomma, le prime obiezioni che mi erano state poste erano quelle ma quell'uomo fa schifo sappiamo tutto dal punto di vista delle sue condotte sessuali e quindi io non leggerò mai niente di lui insomma è assolutamente allora questo modo di dare un giudizio morale sulla vita dell'artista e quindi di accogliere l'opera in base al morale che diamo sulla vita dell'artista è un modo assolutamente deprecabile insomma di guardare all'arte perché l'artista come tale non è soggetto a una valutazione di ordine morale l'opera d'arte non ha non è di per sé qualcosa che può essere che può essere guardata come un atto o un evento morale che si possa giudicare sulla qualità della vita dell'artista l'artista di solito ha di per sé una vita difficile una vita strana è al di fuori spesso della norma come il genio spesso è un qualcosa al di là no che sta al di là della della norma se no non farebbe niente di eccezionale niente che resta insomma no è chiaro che voglio dire possiamo anche dare per scontato insomma no che che la produzione artistica è il frutto spesso di una individualità di una personalità contrastata di difficoltà che si incontrano nella vita no cioè l'artista che produce per compiacere insomma che produce a pagamento opere così spesso non funziona insomma non è un grande artista insomma no quello che si vende quello che si vende al suo pubblico insomma no e forse questa è un'idea anche romantica insomma dovremmo rifare tutta la storia dell'arte e degli artisti per poter approfondire questo insomma è è scontato questa cosa però diciamo così quando diamo quando pensiamo alla vita dell'artista non possiamo valutarla con con un metro morale perché il metro morale poi alla fine è sempre il nostro metro morale è un metro soggettivo se pensiamo a Pasolini e alla sua condotta dal punto di vista sessuale attraverso la quale veniva giudicato non possiamo pensare che quella condanna di quel tipo di condotta sessuale fosse legata per esempio all'epoca insomma se Pasolini fosse vissuta nella Grecia antica la sua condotta sarebbe stata assolutamente normale non sarebbe stato perseguito per la sua condotta morale e così via secondo me è un po' come per la psicanalisi lo psicanalista non può approcciare il proprio paziente con il metro del giudizio sulle azioni che compie lo psicanalista deve semplicemente ascoltare non valutare dal punto di vista morale deve cercare di capire le ragioni che hanno portato oppure i processi mentali le dinamiche i vissuti le esperienze fatte insomma tutto quello che comporta poi il materiale su cui lo psicanalista lavora ma senza mai dare un giudizio morale su quello che ascolta è l'unico modo per poter guidare e per poter condurre poi un processo in qualche modo in cui l'individuo deve trovare se stesso deve capire ciò che lo muove in profondità e deve riappacificare se stesso le proprie contraddizioni al di là del fatto che la società che lo accoglie sia o no condiscendente con quello che muove l'individuo deve cercare di farlo anche star bene nei confronti della società in cui si trova ad essere ma senza mai dare un giudizio morale sulle azioni che fa l'individuo su quello che è stato su perché è così il giudizio è una cosa che fa parte di un altro settore possiamo da questo punto di vista ci sarà la legge ci saranno i tribunali ci saranno tutte queste cose qua ma non riguarda la psicanalisi in questo caso e non riguarda l'arte l'arte è al di fuori di questo insomma e possiamo e possiamo valutarla insomma possiamo provare a capirne qualcosa soltanto se sgombriamo il campo da questo dalla moralità dell'artista da questo che ha fatto e possiamo anche dare per scontata la sofferenza le difficoltà insomma che ha vissuto ogni singolo artista o quasi ogni singolo artista insomma e quindi possiamo riuscire a concentrarsi fatto questo sull'opera sull'opera e su come l'opera si inserisce nel contesto della modernità quindi anche su come per esempio l'opera antica che noi recuperiamo si reinserisce o si ritrova in un contesto moderno cioè di come può essere riattualizzata passiamo il caso di una musica che è stata contestata di una musica di Vivaldi come in realtà abbiamo accettato che per esempio una musica di Vivaldi possa essere stata interpretata da strumenti moderni che niente avevano a che vedere con quegli strumenti che erano in uso quando è stata composta ma però insomma diciamo questi strumenti erano quelli che soddisfavano soddisfacevano il nostro gusto nel momento in cui l'abbiamo ascoltata possa essere riattualizzata e risuonata anche con altri tipi di strumenti che magari sono più disturbanti per noi magari noi che abbiamo una certa età che abbiamo un certo gusto ma che invece siano molto più come dire interessanti per gente molto più giovane che ha invece un'affinità diversa che ha una sensibilità diversa per altri strumenti tanto è vero che questa interpretazione che ha fatto un po' discutere di un ragazzo o di una ragazza insomma dell'estate di Vivaldi suonata con la chitarra elettrica e suonata bene anche come dire ha fatto molto molto più visualizzazioni di un dell'analogo brano suonato da un complesso d'archi insomma e magari da un complesso d'archi che la interpretava secondo la filologia barocca quindi spesso è un problema nostro di adattamento al gusto il gusto cambia se dobbiamo se dobbiamo valutare l'esecuzione allora dobbiamo valutare l'esecuzione come capacità dell'interprete di sentire quella determinata musica e di renderla cioè di suonarla insomma è molto peggio secondo me una l'estate di Vivaldi suonata da un complesso barocco stonato che che interpreta secondo con tempi sbagliati che che non che non c'è musicalmente in quella musica in quel testo che non una un'estate di Vivaldi suonata bene con con la chitarra elettrica insomma no si tratta di mettersi d'accordo ma bisognerebbe evitare determinati pregiudizi se poi andiamo ancora più a fondo vediamo come il terreno sia un terreno molto difficile e complesso in cui muoversi e vediamo anche perché spesso pensiamo all'arte e pensiamo alla storia un po' delle opere ma ci manca per esempio un quadro di riferimento che sia la storia dell'artista di come per esempio la figura dell'artista sia adesso dirò soltanto dei punti di problematicità ci manca come la figura dell'artista sia cambiata nel corso dei millenni dei secoli e ancora più rapidamente sia cambiata nell'ultimo tempo negli ultimi decenni insomma con il cambiare anche delle forme d'arte in maniera così rapida quindi soprattutto sia cambiata nell'ultimo secolo e quando vogliamo definire per esempio un artista abbiamo due modalità per poterlo definire un approccio è non valutativo definendolo in senso di estensione per esempio arte e scultura pittura musica eccetera ma non facciamo attraverso l'approccio non valutativo non diamo un giudizio o non facciamo distinzione di valore e di qualità cioè è una modalità prammatica di affrontare l'argomento che non non mira separare un dipinto che è un'opera d'arte che è stato considerato e giudicato universalmente un'opera d'arte da uno che invece non lo è un dipinto per il fatto di essere tale è già un'opera d'arte diciamo così poi c'è l'approccio valutativo che invece fareva proprio su questa distinzione l'arte è rappresentata esempio che ha suggerito anche Tolstoi dai risultati migliori di una produzione artistica quelli più importanti quelli che hanno raggiunto il successo in ogni campo artistico e di fatto qualcuno dice purtroppo è il metodo più utilizzato nel giudicare un'opera d'arte perché esprime poi il nostro bisogno di giudicare il più in fretta possibile questo bisogno che noi esseri umani insomma abbiamo dentro di noi allora a questo punto però si pone un problema importante definire cos'è un'opera d'arte importante migliore quella più di successo perché ognuno può avere la propria idea su tale cosa su tale concetto e considerare per esempio importante un'opera d'arte che per altri invece è inutile superflua banale sciocca brutta perché di fatti cos'è arte l'arte l'arte è un po' un gioco di parole l'arte è sempre stata ciò che è stata definita tale sappiamo che una cosa è arte perché abbiamo sentito dire che è arte se usiamo il metodo valutativo poi non ha nessun senso parlare di opere d'arte scadenti perché automaticamente se sono scadenti non sono più opere d'arte se le opere d'arte sono solo quelle migliori quelle scadenti non sono più opere d'arte se riconosciamo che sono opere d'arte allora non possiamo definirle scadenti perché l'opera d'arte è soltanto quella eccelsa secondo questo metodo valutativo per l'artista cosa succede secondo l'approccio valutativo un artista pessimo un cattivo artista non potrebbe esistere perché se lo chiamiamo artista dobbiamo per forza riconoscere il suo valore se invece lo definiamo pessimo allora neghiamo anche il suo status di artista ritorniamo alla parola arte nessuno sa più con precisione di che cosa si parli quando si parla d'arte qualcosa di simile accade anche con la parola artista che può essere per esempio usata in maniera indifferenziata per varie attività o come patente di eccellenza o persino come con un contrapunto sarcastico forse è meglio usare un approccio non valutativo tra parentesi parlando di arte ci si può riferire alle arti visive scultura pittura ma anche cinema fotografia performance video art installazioni eccetera in genere non ci si riferisce alla letteratura alla poesia alla musica alla danza e a qualsiasi altra cosa possa essere considerata in senso più ampio arte questo non perché non ne si consideri arte ma per evitare confusioni fino a non molto tempo fa quando si parlava di artisti si si riferiva per lo più a pittori e scultori però le cose adesso sono cambiate oggi artista non è solo un pittore un musicista o uno scrittore ma anche uno stilista un comico un presentatore della televisione la parola artista non è soltanto un aggettivo qualificativo cioè non assegna un valore è solo un sostantivo come tavolo tavolo può essere bello brutto no? ma è sempre un tavolo così l'artista può essere bravo o meno bravo ma è sempre un artista chi è l'artista è chi si dedica a un'arte a questo punto dobbiamo accettare che lo sia anche se la fa male così come un tavolo appunto resta tavolo anche se è brutto è quindi l'aggettivo che definisce il tavolo bello o brutto oppure l'artista bravo o scadente qual è l'obiezione? è che non può essere considerato artista a chi pratica un'arte in modo scadente in malo modo perché secondo l'altra visione che vi dicevo prima l'arte deve essere eccellenza però questa cosa è probabilmente basata su un assunto sbagliato se non vogliamo considerare artista una persona che si dedica a un'arte perché quello che fa è scadente dobbiamo però dimostrare che quello che fa è davvero scadente in modo oggettivo e incontrovertibile a questo punto però diventa impossibile negare che i giudizi sugli artisti e sulle loro opere sono spesso molto diversificati divergenti tra loro anzi a volte all'opposto uno dall'altro e spesso gli stili i movimenti artistici sono stati battezzati con insulti pensiamo per esempio non so alla merda d'artista di Manzoni tanto per fare sempre il solito esempio ma non so alle Mademoiselle Davignon Picasso insomma a tante opere che sono state poi molto criticate giudicate molto male ma non so ma anche pensiamo alle prime esecuzioni di Stravinsky oppure a come sono state accolte certe opere che erano innovative per i loro tempi c'è sempre un gusto che frena e c'è sempre l'artista che in qualche modo anticipa e che nel momento in cui anticipa crea una provocazione crea un vulnus in un determinato gusto e che quindi spesso viene respinto all'inizio salvo poi essere recuperato ed esaltato in tempi successivi spesso gli stili e i movimenti artistici sono stati battezzati con insulti pensati per loro da critici avversi e ci sono stati tanti casi di errori di giudizio o anche di capovolgimenti di giudizio una cosa che prima era considerata brutta poi a un certo punto è stata considerata un capolavoro e tutti questi esempi abbondano nella storia dell'arte quindi chi decide cosa è veramente buono e cosa non lo è il pubblico il gusto allora se facciamo questo basta andare a vedere anche qui su youtube cosa cosa viene premiato con le visualizzazioni e cosa invece spesso non è premiato dalle visualizzazioni per farci un'idea di quale sia il gusto del pubblico oppure lo decidono gli esperti decidono gli esperti cos'è arte cos'è no no però anche i giudizi degli esperti dei critici spesso sono altrettanto altalenanti oppure cosa lo affidiamo al al valore del mercato delle opere bene anche il mercato è soggetto a determinate leggi e a determinati meccanismi non proprio limpidi sappiamo bene come un gallerista un determinato investimento in una determinata opera d'arte può far sì che venga esaltata che venga portata in alto nelle quotazioni oppure abbandonata a se stessa è incapace di essere conosciuta e riconosciuta il mercato quindi spesso fa valutazioni che con la qualità non hanno niente a che vedere altra considerazione la parola artista si è talmente caricata di significati e valori che gli artisti spesso non sono più in grado di esserne degni insomma se io volessi definirmi artista mi ridereste dietro molti personaggi che si definiscono o che vorrebbero definirsi artisti spesso vengono presi in giro no? qualsiasi cosa faccia un artista o comunque la faccia ci sarà sempre una fetta di umanità che non solo non amerà il suo lavoro ma metterà persino in dubbio il fatto che si tratti davvero di un artista qua potrei anche prendere un esempio banale anche da youtube no? e vedere come ci siano i non mi piace anche su esecuzioni prendo il campo della musica che è quello che forse conosco meglio ci siano spesso anche parecchi non mi piaci in esecuzioni che sono insuperabili insomma sokolov michelangeli insomma eppure c'è sempre qualcuno che mette non mi piace questo per dire che al di là della bontà non so indubitabile in qualche modo di un determinato di una determinata opera in questo caso di una determinata esecuzione insomma ci sia sempre qualcuno che non è d'accordo sul giudicarla tale è proprio perché la parola artista è così carica di valori che se qualcuno osa definirsi tale si scatenano reazioni inconsulte cioè chi si definisce o prova a definirsi artista si include in un gruppo che nell'immaginario collettivo è popolato da un momento cabili Michelangelo Raffaello Rembrandt ed è questo a far nascere molta rabbia no è una cosa che tanti non sopportano la ritengono una presunzione imperdonabile mentre si scandalizzano meno se uno dice di essere pittore o scultore eppure anche in questo caso si sta inserendo in un gruppo che è stato popolato da Michelangelo Raffaello e così via no pittore e scultore sono termini accettabili con riserva ma sono accettabili mentre artista no definirsi artista non fa un bel effetto sull'interlocutore è una parola a cui è negata qualsiasi legittimità allora quale potrebbe essere la soluzione per cercare di definire un artista per cercare di definire un artista la soluzione potrebbe essere quella di usare la parola dedica l'artista è colui che si dedica a un'arte ma allora cosa vuol dire dedicarsi non vuol dire provare una volta nella vita o averlo fatto qualche domenica o quando non aveva altro da fare cioè dedicarsi è un verbo impegnativo donarsi insomma no è anche molto selettivo sinonimi potrebbero essere consacrarsi darsi offrirsi offrirsi all'arte con le proprie capacità che possono essere ecceise ma anche meno ecceise allora chi si dedica all'arte e lo fa con amore come necessità quella cosa che diceva anche Rilke nella lettera al giovane poeta tu scrivi poesia soltanto se alla notte ti svegli e senti la necessità che devi scrivere c'è un bisogno che nasce dentro di te e non ne puoi fare a meno non perché te lo chiede qualcuno o perché è così ma perché è un'esigenza che sta dentro di te è radicata dentro di te non ne puoi fare a meno è una tua necessità e quindi ti dedichi a quello che poi insomma ti riuscirà bene o male dipenderà da come accoglieranno gli altri che sono un'altra cosa ma tu lo devi fare comunque dedicarsi vuol dire anche questo e allora bisogna anche ricordarsi che l'arte non è dimostrabile se lo fosse dopo millenni di arte prodotta da milioni di artisti noi oggi avremo una teoria dell'arte che è accettata da tutti sapremmo cos'è arte e cosa non lo è prima ancora di vedere le opere anzi prima ancora di farle perché sapremmo per filo e per segno che cosa fare per produrre un'opera d'arte e invece accade l'opposto abbiamo centinaia di teorie che non concludono niente abbiamo avuto nel corso della storia migliaia di esperti che hanno vergato dei diktat che poi sono assolutamente contrastanti tra loro e ancora oggi abbiamo schiere di soloni che sostengono delle idee che sono esattamente gli antipodi tra di loro quindi non sappiamo ancora cos'è un'opera d'arte quali sono le caratteristiche necessarie per definirla tale o i criteri e allora andiamo a vedere un po' di esempi come come nel tempo insomma pensatori hanno cercato di definirla per esempio per Eugène Véran Tolstoi Kiro Hirn l'arte è espressione di comunicazione e di emozioni per Karl Lange e Karl Gross è gioco per Benodetto Croce Bernard Bosanquet e Riberson è intuizione e tecnica per Sigmund Freud Friedrich Nietzsche e David Parker è voglia di potere o soddisfazione di desideri per George Santayana e Harry Marshall è piacere per Civil Bell Roger Free Edward Carpenter è forma per Ramon Fernandez e Jacques Maritain è intelletto per José Ortega Igrassé ed Edward Bullog è distacco psicologico per Vernon Lee e Theodore Rips è empatia per Ethel Puffer Hugo Münstenberg Charles Hodgen Evo Richards e James Wood è isolamento ed equilibrio per Spengler e Mumford è influenza culturale per William Morris Dewey Wheatland è invece uno strumento un mezzo c'è persino chi ha pensato di poterlo individuare con tale precisione delle componenti universali e condivise da fondare una scienza dell'arte idea che è stata accarezzata da tanti come Meipolit Tain August Comte Herbert Spencer Gottfried Semper Karl Marx Friedrich Engels Alois Riegel Conrad Fiedler Max Desuart Max Benz ovviamente queste cose le sto leggendo perché non me le sto inventando io ma allora insomma possiamo pensare all'arte semplicemente se evitiamo la riduzione dell'arte a delle formule ideologiche e a questo punto ritorniamo da capo ancora non sappiamo esattamente cosa sia l'arte in tanti millenni insomma non siamo riusciti neanche a metterci d'accordo su una caratteristica una una sola non cento che fosse comune a tutte le opere d'arte e che permettesse di far luce sul mistero e per dirla tutta nessuno al mondo può dimostrare con certezza qualsiasi affermazione sull'arte anzi non si può neanche dimostrare che esista davvero Gombrich diceva non esiste in realtà una cosa chiamata arte esistono solo gli artisti se l'esistenza dell'arte è opinabile quella degli artisti invece è certa sono esistiti esistono e con ogni probabilità continueranno a esistere senza di loro non ci sarebbe stato nulla di quello che nell'arco di millenni è stato di volta in volta ritenuto arte e allora mai nella storia umana sono stati così numerosi parafrasando Shakespeare si potrebbe dire che ci siano più artisti in cielo e in terra di quanti non ne possono contenere i musei di tutto il mondo mai quindi gli artisti sono stati così numerosi se ha ragione chi considera l'arte espressione di un disagio di una malattia allora si tratta di una malattia aggressiva e contagiosa ARS come SARS una sorta di pandemia che ha attanagliato il pianeta riuscirà mai a contenere tutte le opere d'arte che saremo in grado di produrre è un'altra domanda che posso porre insomma abbiamo ancora bisogno di tutte le opere d'arte che si producono in continuazione dipinti fotografie musiche e chi ne ha più una metta nessuno può prevederlo e allora cosa si può fare spogliare gli artisti del passato dalla patina di idealizzazione che il tempo ha lasciato stratificare toglierli un po' anche dal piedistallo mostrare che non esiste una natura univoca dell'artista e che artisti ugualmente grandi possono avere caratteri gli atteggiamenti opposti e infine che una grande opera non deve per forza essere il frutto di un grande essere umano le due cose sono diverse e separate e separate bisognerebbe tenerle per evitare di idealizzare un artista solo perché la sua opera è eccellente oppure di infrangere un'opera eccellente solo perché l'autore ha comportamenti pessimi la cosa sciocca spesso quando si ragiona sull'arte è quella di avere dei pregiudizi e soprattutto di voler far rientrare nelle proprie categorie il tutto i pregiudizi spesso nascono da da ragionamenti sciocchi anzi stupidi stupidi e qua mi ripeto perché l'ho già detto qualche volta sono quei ragionamenti no che sono apparentemente molto come dire molto intellettuali insomma no usano argomenti abbastanza sofisticati però questi argomenti sofisticati spesso vengono avvicinati vengono messi insieme praticando dei salti logici che apparentemente non sono non sono riconoscibili insomma chi non è abituato a ragionare non si accorge di un passaggio logico stupido che non si può fare che non è consentito dalla logica e allora più diciamo le persone stupide sono pericolose sono pericolose perché spesso sono anche colte hanno tante informazioni e i mezzi di adesso così come sono fatti a cominciare da Wikipedia ci offrono tante informazioni rapidamente gratuitamente insomma no e noi spesso ci sentiamo colti ci sentiamo ricchi di queste informazioni quello che manca spesso è la struttura della mente della personalità in grado di assimilare queste informazioni e di farne un magma omogeneo coerente coeso spesso le mettiamo insieme una con l'altra e e soprattutto le accostiamo e cerchiamo di produrne dei ragionamenti che alla fine sono devianti con la convinzione però che siccome sappiamo molte cose cioè abbiamo molte informazioni siamo sicuramente nella verità e non ci accorgiamo dei passaggi che facciamo logici incongrui e allora diciamo così che lo stupido colto è molto più pericoloso dello stupido ignorante cioè dello stupido ignorante in senso monario dello stupido che ha poche informazioni perché quello è umile sa meglio distinguere i suoi limiti invece lo stupido colto è anche arrogante spesso e quindi è convinto di essere sempre nella ragione è convinto che il suo ragionamento sia inattaccabile e soprattutto vero e difficilmente si pone il problema del limite della verità desidera spesso organizzare tutto secondo il suo punto di vista e far rientrare tutto insomma la sua operazione è quella di prendere tutto quello che trova nel reale e di adattarlo al suo principio unificatore e da qui le conseguenze sono a seconda ovviamente dello spazio che questo si prende però c'è anche da dire che e qui è il problema del web insomma che mentre prima quando non c'era il web di fronte a un sistema logico stupido c'era l'ostacolo del del mezzo cioè uno stupido difficilmente riusciva ad entrare in televisione mettiamo no perché doveva superare determinati sbarramenti e spesso quando c'entrava veniva sfruttato per essere preso in giro no non so ci ricordiamo la corrida adesso no adesso qualsiasi stupido riesce a trovare il suo spazio qui dentro su youtube insomma ha a sua disposizione dei mezzi che sono in grado di arrivare dappertutto e quindi come dire non c'è più selezione ma la selezione non c'è neanche più in chi riceve determinati messaggi perché anche chi riceve determinati messaggi ormai non ha più o ha sempre meno le armi per capire dove sono quei minimi spesso impercettibili salti logici quelle disconnessioni che fanno sì che un ragionamento porti a sviluppi spesso impensabili e spesso aberranti e con questo ringrazio dell'attenzione arrivederci